Oltre 9.000 bambini vaccinati, quasi 2.000 in attesa della seconda dose sui 22.000 residenti nella provincia di Avellino. Per ore è circa del 50% la percentuale raggiunta in Irpinia nella campagna vaccinale pediatrica. Oggi si sono completate le liste degli iscritti nella fascia 5-11 anni e l'ASL rinnova l'appello ai genitori. L'invito ai genitori, soprattutto, che decidono per i loro bimbi a effettuare la vaccinazione. Perché è l'unica arma che abbiamo e i bambini, per le scuole e per le attività che fanno, giocano un ruolo fondamentale in quella che è la diffusione del virus. L'aumento dei casi colpisce anche noi, nel senso che giorno per giorno ci troviamo con unità in meno. Negli hub vaccinali si è svolto l'open day senza prenotazione per prime e terze dosi, un'iniziativa che ha ottenuto un buon riscontro e l'ASL ha deciso di riproporla anche domani. Soprattutto per le terze, purtroppo prime e secondi ancora poche, però noi siamo fiduciosi. Arriverò alla quinta fra poco, ce l'ho fatta tutta. Chi non si è vaccinato è solo un ignorante, punto. È una buona opportunità in modo che uno si togli il pensiero, se lo deve fare lo fa. Oggi a sabato la gente dorme, allora ci sta poco affollamento, allora abbiamo trovato l'occasione di fare anche questa operazione. Ma intanto in mattinata è stata contabilizzata un'altra vittima, è deceduto un 79enne di Avellino che era ricoverato in terapia intensiva al frangipane. I nuovi positivi sono 542 su poco più di 5.000 tamponi esaminati, 69 se ne contano ad Avellino, 41 a Montoro e 18 a Solofra.